Non una semplice navetta, ma un bus diretto da Francavilla al Mare a Chieti. Lo chiedono i 532 firmatari della petizione rivolta alla Società di Trasporto Pubblico Regionale, la tua, e sottoscritta anche dall'amministrazione comunale. La necessità di una linea che prosegua tutto l'anno e non solo d'estate è data anche dal fatto che molti studenti, liceali o universitari, in inverno devono raggiungere le scuole di Chieti, cosa che attualmente possono fare solo con almeno due cambi, uno dei quali prevede un passaggio addirittura da Pescara. Una navetta c'è ma è solo estiva e invece di una linea diretta se ne sente la necessità anche e soprattutto l'inverno. Io direi che un comitato che giustamente ha raccolto molte firme, si sta arrivando al migliaio di firme, per una cosa che nel 2019 dovrebbe essere banale e ovvia. Un ragazzo di Francavilla, una città, forse la decima mi sembra, città d'Abruzzo, che per andare alla propria università a Chieti impiega un'ora, un'ora e mezza di viaggio con il mezzo pubblico. Questo fa sembrare il trasporto pubblico alla preistoria, insomma, non è possibile. Quindi chiediamo un collegamento diretto tra Francavilla e l'università. Tra l'altro a fianco all'università c'è l'ospedale, quindi potete immaginare che chi va a trovare un proprio caro debba per forza utilizzare l'autovettura oggi, perché non è possibile impiegare un'ora e mezza per andare fino all'ospedale, ma anche per fare una semplice analisi. Sono tante le esigenze e quindi chiediamo che Tua si occupi e la Regione si occupino finalmente di risolvere questo problema. Ha intenzione di sentire qualcuno nella Regione? Lo ha già fatto? Ho scritto, ho scritto alla Regione chiedendo di essere ricevuto. Ora capisco che siamo nel mese di agosto, quindi non voglio colpevolizzare nessuno, ma mi aspetto che a settembre venga convocato un tavolo che affronti seriamente questo problema. Ci sono tante linee che forse rappresentano uno spreco. Bisognerebbe anche iniziare a valutare quali sono le linee se in ristrettezza, gli amministratori hanno sempre ristrettezza di fondi. Il problema non sono i fondi, il problema sono le priorità. E quindi io ritengo che questa sia una priorità perché una tratta tra la decima città d'Abruzzo e l'ospedale e l'università non può non essere una priorità.